questa applicazione grazie davvero molto utile quindi vi aiuterà a far crescere questo canale quindi adesso aspettiamo che si scarica ecco qua facciamo apri apriamo ecco next next finish una volta scaricato bisogna accedere con il profilo quindi con l'account di youtube quindi accedi quindi scegliete il vostro accanto di youtube una volta entrati sull'applicazione sotto ne avete quattro disegni quindi ci avete il mi piace il play poi ci avete l'iscrizione e l'home quindi la chiasa per la prima cosa andiamo su like anzi prima dobbiamo dare l'autorizzazione della scrittura quindi ritorniamo andiamo sul primo video quindi premiamo like questo video qua dura 60 secondi quindi 60 secondi ti fa guadagnare a 130 punti quindi aspettiamo che passano questi 60-60 secondi 30 quindi manca poco 31 30 31 31 31 32 31 32 33 33 34 35 35 36 35 36 35 36 36 e poi fare il return all'applicazione come vedete abbiamo guadagnato adesso aspettiamo che passano questi 10 secondi di pubblicità ecco come vedete sotto a destra ho il mio credito quindi 4875 volendo posso accumulare altri conti quindi basta andare sulla seconda schermata come vedete io qua ho 60 secondi con 48 punti quindi basta che prendo play, guardo il video e quindi mi danno 48 punti invece andando sulla terza incona ho solo il testo sul stesso disegno qui mi chiede l'iscrizione e il mi piace sul canale quindi basta che primo subscribe e qua mi do 60 secondi con 210 punti quindi aspettiamo che passano i 60 secondi come vedete dietro Una volta finito il tempo bisogna premere il mi piace e l'iscrizione del canale. Poi bisogna premere il report per ritornare all'applicazione. A questo punto quindi come avete visto abbiamo formulato 5725. Ora aspettiamo che passa questa pubblicità. Ok quindi andiamo sulla home, il disegno della home, ancora pubblicità. Come vedete io ho già 5 video caricati. Quindi andiamo su, facciamo il più, quindi premiamo il più. Qua mi dice che sono al limite, quindi massimo si possono caricare 5 video. Quindi cliccino 1, quindi vado su più. Allora qua mi chiede cosa vuole ottenere. Quindi ho iscrizione e mi piace, ho visualizzazione che è la seconda o altrimenti solo mi piace. Quindi io vado sulla seconda. Qua invece ho tutti i miei video caricati, quindi scelgo il primo a caso. E in questa schermata, e come vedete in questa schermata mi dà quante visualizzazioni voglio ottenere. Quindi c'abbiamo 50, c'abbiamo 100 visualizzazioni. Quindi qua c'abbiamo più, più anche altri numerati tipo c'abbiamo il 1000 che adesso lo vediamo. Quindi 1000 visualizzazioni. Ovviamente quei 60 sono 60 secondi. Quindi noi andiamo su 50 secondi, 50 visualizzazioni scusate, con 90 secondi. Facciamo 90. Ok, vedi che richiede 4500 punti. Quindi qua come vedete c'è 0 barra 50. Una volta che avrò avuto 50 visualizzazioni, quindi ci sarà il posto del 0, ci sarà 50. per quanto. Spero che questo video vi è stato utile e ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao ragazzi.